R2B Pinocchio, una specie di trittico dove focalizziamo l'attenzione, dove tutto converge nella figura del padre che in questo caso diventa anche Geppetto e Pinocchio, sono tre figure che convergono in un unico vettore. E' un lavoro sulla bugia che ha una differenza sostanziale con la menzogna, nel senso che lavorando su Collodi e su Pinocchio in particolare abbiamo scoperto questa differenza, che Pinocchio racconta bugie per immaginarsi un mondo migliore, a differenza della menzogna che è più usata dagli adulti e quindi mentire in qualche maniera e tradire la verità. In questo senso Pinocchio non mente mai ma dice e racconta bugie e quindi questa è stata una grande scoperta durante il processo creativo e durante la creazione. Per cui, insomma, sì, un lavoro sulle intensità emotive ed esistenziali. Diciamo che è una favola nera, se così si può definire, dove non esiste più Pinocchio, Pinocchio non c'è, non c'è più il pezzo di legno ma è rimasto un Pinocchio in pelle e ossa fatto appunto di sangue e di cuore che pulsa fin dall'inizio dello spettacolo. C'è questo, diciamo, battito che ci conduce sempre più verso il suo ventre che poi anche il ventre della balena. Attorno alla figura di Geppetto ci sono poi tre donne, diciamo, che gestiscono tutti gli altri personaggi dell'avventura di Collodi e con loro, diciamo, animano questo universo fiabesco. Però laddove la favola diventa nera si controbilancia un universo di luce che manifesta appunto questo potere della creazione e dell'immaginazione. Dunque è un creare continuamente in scena ed è anche un trasformarsi dentro la scena. Dunque un racconto nel racconto. A partire appunto dall'Ottocento di Collodi fino al Paese dei Balocchi e al finale in cui ci ritroviamo di nuovo dentro il ventre della balena che poi è il ventre del teatro. Ci siamo alla grande, una mia domanda l'ho anche nata da quello che io ho avvertito di questo spettacolo. C'è questo scavare proprio nel profondo di una sorta di io che diventa poi universale e collettivo e che quindi diventa politico. Mi potresti parlare se è la mia intuizione o quello che ho sentito e corretto, cioè anche dovuto alla storia che comunque conosco. Però qual è l'accezione, se c'è politica, dell'oggi e dell'Italia? No, rispetto alla politica del lavoro diciamo che concludiamo lo spettacolo in maniera chiara lo concludiamo vicino, diciamo, dentro il Paese dei Balocchi e quindi poi ci sono queste due grandi immagini che anche la trasformazione di Pinocchio in Asino e in qualche maniera per me la politica ha a che fare in questo caso col tema della bugia e della menzogna. Quello che dicevo prima che la bugia i bambini quando dicono o raccontano le bugie lo fanno per creare, per alimentare l'immaginazione quindi creando, diciamo, universi e mondi nuovi a differenza della menzogna e quindi diciamo che l'adulto tende più a mentire quindi a mentire anche a se stesso o tradendo la verità mentre nel tema di Pinocchio la bugia è creativa, è creazione quindi Pinocchio non esiste nell'eccezione per come ce l'hanno sempre raccontato, ecco.